2 milioni di euro per il nuovo acceleratore lineare del reparto di radioterapia dell'ospedale Mazzini di Teramo a distanza di 12 anni dalla richiesta. Finalmente CEA è attivo, unico in Abruzzo a garantire una volta entrato a regime prestazioni diagnostiche impossibili altrove. Lunedì è stato fatto il primo trattamento su un paziente di bellante che ha un tumore alla prostata e che si dovrà sottoporre in totale a 38 sedute. Si chiama Trilogy e funzionerà a pieno regime entro la fine dell'anno. Noi questo l'abbiamo definito un avvenimento, è un vero e proprio evento perché effettivamente come lei ha detto sono 12 anni che aspettiamo. Questo reparto è stato concepito nel 2002, è aperto e inaugurato già con due bunker, quindi era previsto l'acquisizione di un secondo acceleratore lineare. Fortunatamente comunque è arrivato. Questa tecnica consente di tenere sotto stretto controllo visivo la massa tumorale da trattare, permette di indirizzare il fascio di radiazioni con una precisione millimetrica che mai si sarebbe potuta pensare in precedenza e presto. Anche il primo vecchio acceleratore lineare in dotazione all'ospedale di Teramo potrà essere sostituito. L'attivazione del nuovo acceleratore permetterà di risolvere diversi problemi su tutti la mobilità passiva e la continuità terapeutica per i pazienti costetti oggi invece a doversi rivolgere altrove spesso per accelerare i tempi. In passato e come il resto sta succedendo adesso, le liste attese sono all'incirca di quasi due mesi. Un secondo acceleratore lineare permetterà di ridurre sensibilmente questa. Di quanto, dottore? Al momento non è quantificabile perché questo secondo acceleratore non riguarderà tutti i pazienti ma alcune patologie. Quindi dobbiamo ancora definire bene il numero di pazienti da immettere però certamente almeno all'inizio queste liste si ridurranno. Fino adesso la macchina quando si fermava, e queste sono macchine molto sensibili e delicate, il paziente si fermava con la terapia. Adesso disponendo di un secondo acceleratore si potrebbe bypassare questo problema e quindi poter trattare il paziente nella macchina funzionante.